Altra deludente sessione di qualifiche da parte di Sebastian Vettel, il pilota tedesco si piazza al tredicesimo posto, come al solito sempre troppo distante dal suo compagno di squadra Leclerc, che a parità di auto arriva sempre in Q3. La Norris è in P10, 15.0 And stay negative Copy, stay negative